la kabuki è molto bella perché sembra alla fine una grande nassa il fatto di metterle a grappolo metterne due o tre appese sopra un tavolo comunque in una parte esterna sarà anche disponibile nella versione outdoor e stagna credo che sia un bell'oggetto che entra a far parte della collezione di lampade di carte un'altra parte Grazie a tutti. Grazie a tutti.